bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite nel battle royale ma anche in salva al mondo vbucks in regalo modifiche alla mappa tanto tanto altro nel video che sto per farvi vedere prima di tutto volevo però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie davvero ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video delle 13 e 30 ma andiamo proprio a vedere allora gli argomenti trattati nel video di oggi insieme ai vbucks vedremo anche il glitch della cassaforte si ragazzi incredibile assurdo c'è un modo per andare nella cassaforte dell'agenzia senza avere la chiave è assurdo ve lo faccio vedere e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati anche sul dietro le quinte ma prima la domandina ragazzi ve la devo fare lo sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qui sotto domanda di oggi una delle più semplice in assoluto ma finalmente mi vuoi dire a che livello siete arrivati dai ragazzi oramai le settimane volano la season termina il 29 aprile che ha scioppazzato i livelli del pass porca miseria avete scioppazzato i livelli del pass no non mi interessa tutti quelli che sono arrivati a un tot me lo scrivano qua sotto io sono al 52 sono lì lì per scioppare qualche livello perché ho paura di non fare il 300 ma per adesso teniamo duro ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito ragazzi a leggere le prime news di oggi praticamente si parla di quello che verrà fixato nella patch 12.20 quella che arriverà settimana prossima martedì probabilmente secondo me sì perché un martedì o mercoledì uno di questi due giorni la prima cosa ufficiale che viene già resa ufficiale appunto è che verranno rimessi dei banner nell'armadietto che sono stati involontariamente tolti quindi non si sa bene perché questa invece è molto interessante non è possibile piazzare le trappole se l'icona della trappola non ha finito di caricarsi ora io non so bene di che trappole si parli visto che siamo proprio nel battle royale topis quindi problemi grandi del battle royale anche perché trappole non ne abbiamo abbiamo la jump ma non è considerata come trappole voglio investigare questa cosa se qualcuno ha qualche idea ragazzi me lo scriva qua nei commenti perché ci tenevo comunque a condividerla con voi e invece per quanto riguarda modifiche anche a salvo al mondo non ci i perks che vengono messi sulla base non sono conteggiati correttamente ci saranno problemi anche con ci sono problemi anche con la visualizzazione delle ricompense giornaliere verrà fixato anche il problema che la classe eroe che va su di default nella lobby rimane anche se cambi il comandante e per terminare ragazzi la il veleno della love lobers che credo che sia qualche modalità particolare che io non conosco potrebbe causare i danni continuativi semipremanenti continuativi quindi fixa anche di queste cose su salva al mondo io ci gioco vi consiglio sempre di provare a giocarci perché non è affatto male di prenderlo perché da un bel po di v bucks ma voglio farvi subito vedere invece il glitch che si è scoperto per entrare nella cassaforte dell'agenzia vi metto un attimo a tutto schermo guarda un po qua ragazzi guardate che roba praticamente il tizio qua siamo dove c'è il camion di reboot dell'agenzia costruisce tre muri ok libera il corridoio qua il corrimano mette una scala per essere un pochettino più comodo va a prendere il motoscafo e come vedete gira col motoscafo punta la scala sale sulla scala qua non è facilissimo ma riesce a non distruggere le strutture guardate che storia piazza il motoscafo nelle tre strutture chiude e mette una piramide sbronk what up è assurda e meravigliosa allo stesso tempo questa cosa ragazzi perché è veramente incredibile il glitch che c'è per entrare con il motoscafo nella cassaforte provateci fatemi sapere se anche a voi funziona e andiamo avanti ragazzi perché ci sono tanti aggiornamenti anche per quanto riguarda la patch 12.20 ci viene detto che epic games sta testando ripetutamente la patch 12.20 in varie build quindi con delle modifiche una dall'altra ci hanno delle informazioni interessante su tre stringhe che si chiamano pre deploy b quindi il deploy lo sappiamo è quando tu apri il paracadute ora io non so se pre deploy stia a significare un qualcosa con l'apertura continuata dei paracaduti potrebbe però attenzione essere il paracadute che si apre quando ci si butta dall'elicottero mi immagino un elicottero che viene mitragliato e che quindi in fiamme non è che esplodi con l'elicottero probabilmente c'è la possibilità di riapire un paracadute poi abbiamo invece dev play test g e dev play test k che sono appunto delle prove proprio sulla mappa del battle royale e molto probabilmente appunto dei nuovi veicoli insomma ragazzi staremo a vedere questi elicotteri quando arriveranno perché davvero io non vedo l'ora di vederli in game e andiamo avanti anche perché le sfide di ieri quelle della settimana numero 3 ci danno la possibilità appunto di cominciare la scelta per tnt tina vi avevo già fatto vedere nel video di ieri le due varianti quindi spettri e ombre belle tutte e due tina in entrambi i casi questa è la mappa classica che di solito possiamo trovare per svolgere tutte le missioni alcune un po più difficili alcune invece più semplici comunque non doveva esserci nessun problema nel farle e signori ah no vi volevo dire che altre notizie arrivano per quanto riguarda gli elicotteri perché ci sono nuove piattaforme di atterraggio degli elicotteri in quattro nuove location apres sky quindi la parte alta se non ricordo male sulle montagne il garage holy edge e wader station quindi la stazione meteorologica e probabilmente no anzi e ne sono state aggiunte altre anche nell'agenzia e nella lobby lobby però non inteso ovviamente come la lobby di gioco prima di entrare quindi speriamo che con questi giorni diano finalmente un'informazione ufficiale anche dello spawn rate degli elicotteri perché vi avevo già fatto vedere che fino a qualche ora fa era allo 0 per cento probabilmente stanno ancora decidendo con quale frequenza farli sponare indicativamente dove ci sono le lettere h nella mappa potrebbe sponarci sopra un elicottero e siamo arrivati finalmente ragazzi al discorso dei mille v bucks che epi games darà come li darà praticamente con la nuova skin di pesce secco si chiamerà contract giller o giller non so bene come si pronunci sarà un una skin che si dovrà acquistare il prezzo è di 9 euro e 99 ma in realtà ci vengono ridati tutti questi soldi in v bucks quindi mille v bucks con le sfide in nel pacchetto insieme alla skin la vediamo un attimino un pochettino più in grande insieme al suo backpack davvero molto molto divertente lasciate perdere l'immagine del punto di rottura che non ci interessa assolutamente ma come vedete ci sono ci sono 100 200 300 e 400 v bucks che si ottengono semplicemente completando le sfide giornaliere insomma ragazzi anche per oggi tutte le news io ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi ai miei canali io sono in live sulla piattaforma viola adesso ciao 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 ciao